In studio Giada Giacquinta. Ancora buonasera e bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura parliamo di coronavirus perché cresce il numero dei contagi in provincia di Ragusa. Abbiamo fatto il punto nel corso della nostra edizione di MTG delle 16.30 con il dottor Antonio Davi, direttore dell'unità operativa complessa malattie infettive negli ospedali di Modica e Ragusa. Intervistato da Marco Scavino ha detto che non si esclude un secondo lockdown visto l'andamento. I dettagli in questo stralcio dell'intervista. La condizione attuale purtroppo deriva da due fatti sostanziali. Quarto innanzitutto dell'assembramento delle persone, quindi il mancato rispetto del distanziamento. Questo è fondamentale. Da qui alcune considerazioni sul fatto di quanto coincide la scuola. Io dico che nelle scuole praticamente si è fatto molto e molto bene. La percentuale maggiore è nei contagi intrafamiliari, quindi bisogna incidere lì sui contagi intrafamiliari, ma soprattutto bisogna incidere sulle movide e quindi su questi luoghi di assembramento che praticamente determinano, proprio perché i ragazzi soprattutto, ma anche i non giovani, non rispettano la famosa regola, innanzitutto della mascherina che è fondamentale, ma quello del distanziamento è ancora più fondamentale. Allo stato attuale il Covid-19, proprio in riferimento alla virulenza, è lo stesso che abbiamo conosciuto? Si può parlare dello stesso virus o è mutato? Il virus è uguale. Io le posso semplicemente dire che la dimostrazione lo è il numero progressivo di aumento di pazienti contagiati. Però devo anche un pochettino, diciamo, non creare psicosi, allarmismo, perché ci sono da dire alcuni concetti. Uno, il 90% dei pazienti contagiati non sono dei malati, se no creiamo un allarmismo incredibile. Sono dei contagiati, sono degli asintomatici, sono altri indicatori. Abbiamo meno decessi rispetto al mese di marzo-aprile, abbiamo meno ricoveri in terapia intensiva. Ma che cosa è successo in estate? Perché c'erano pochi ricoverati, quasi zero? Ci deve essere un certo numero di persone che erano asintomatiche e che cominciavano lentamente a contagiare altre persone. Quello che è successo è che moltissime persone, giovani e non giovani, praticamente non hanno più rispettato del regolo. A parte questo, con il fatto di aver ripreso tutte le attività sociali, quindi siamo passati a una fase nella quale tutto questo ha, come dire, favorito l'aumento, anche se lento, dell'incidenza di questi nuovi contagiati. Lockdown a Natale potrebbe servire? Guardi, non lo posso escludere, perché praticamente se l'andamento sarà questo, al di là dello studio statistico, del modello matematico a cui accennavo poco fa. Se noi procediamo con un aumento di 500.000 persone al giorno, noi potremmo rischiare di fare la stessa fine della Francia, che è arrivata a 27.000 contagiati. E lì il problema sarà veramente grosso, perché credo che si potrebbero esaurire anche tutti i posti letto, sia le margine infettive, sia le trette intensive. E a proposito di coronavirus, il nuovo DPCM per contenere i contagi non è condiviso pienamente dal governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che punta l'attenzione in particolare sulle restrizioni relative agli eventi e alle cerimonie. Sentiamo. Abbiamo dato un paio di giorni al governo Conte per poter rimediare. Continuiamo a fare appello al senso di responsabilità individuale e collettiva dei siciliani. Dobbiamo tornare ad essere esempio, esattamente come lo siamo stati nei mesi drammatici di marzo, aprile e maggio. Io sono fiducioso. Credo che gli irresponsabili siano pochi e credo che vadano isolati. Nuovo DPCM, parere vincolato. Il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, chiarisce che dal confronto con Palazzo Chigi da parte sua c'è il totale assenso per le linee generali, ma diversa opinione. Si registra per le restrizioni che il governo impone per le feste private, per le ricorrenze e per le cerimonie. È un'assurdità perché si compie un atto di ingiustizia. Non c'è coerenza nel DPCM barato ieri. Non possiamo da un lato consentire che sull'aereo due persone sconosciute stiano l'una accanto all'altra e poi imporre un limite di 30 persone per partecipare ad una cerimonia, specie se è una cerimonia nuziale che di solito accade una sola volta nella vita, motivo in più per scoraggiare le coppie a coronare il loro sogno. Questo mentre la regione siciliana con questo governo ha voluto erogare un bonus proprio per incentivare le coppie a coronare il loro sogno. Durante il vertice con Palazzo Chigi, Musumeci ha parlato anche di immigrazione. Intervenire sul governo di Tunisi per porre fine a questa drammatica sequela di partenze. Il Presidente mi ha assicurato che proprio ieri sera avrebbe avuto dopo il nostro incontro una telefonata con il capo del governo tunisino per affrontare questo tema. Non mi faccio illusioni ma ho il dovere di insistere perché noi non possiamo assolutamente tollerare un atteggiamento cinico, superficiale da parte dell'Unione Europea e un atteggiamento di forte e pericolosa debolezza da parte del governo italiano verso Bruxelles. Bisogna avere buon senso a dirlo ai cittadini intervistati che commentano la norma del DPCM sul numero massimo di persone da poter invitare a casa. Sentiamo. Se c'è una regola va rispettata. È quello che dice la gente commentando la norma del DPCM che prevede non più di sei ospiti a casa. Dunque bisogna evitare feste e ricevere persone non conviventi di numero superiore a sé nelle proprie abitazioni private. Questo perché il CTS invita alla massima precauzione in relazione agli assembramenti anche nei luoghi chiusi. Dunque attenzione anche a quello che facciamo nelle nostre case. Massimo. Puoi rispettare. Io cerco di rispettarla. Io cerco. Infatti quando c'è la fusso ci allontaniamo e ci mettiamo la mascherina. Però non lo so quello che sta succedendo. Guardi siamo tutti nell'incertezza. Io credo che tutte le restrizioni le prendiamo tutti male. Però visto che non siamo nessuno sicuri cosa facciamo? La domanda la potrei rifare a lei. Siamo tutti nella paura. Io per dire se sono d'accordo direi è giusto prevenire. È meglio che curare. Quindi niente pranzi della domenica, niente scene affollate. Si fa male dirlo però forse è meglio così per evitare tante e tante cose. Io penso che siamo in un momento che dobbiamo noi stessi proteggerci in qualche modo. Quindi difenderci. Cioè se io non dovessi fare così a cosa vado incontro? E questo io me lo chiedo. Mio marito, i miei figli, i miei nipoti. E questo mi dà la forza di andare avanti. Quindi cerchiamo di abolire tra virgolette i pranzi delle domeniche o le scene quelle più affollate? E qua non si parla di abolire, di fare divieti drastici. Si parla del buonsenso. I miei nipotini debbono andare a scuola. Questa è la cosa più importante. Non ce lo scordiamo. Se per qualche volta vediamo a meno gli amici non succede nulla. Facciamo le telefonate, ci sentiamo e speriamo che tutto passi presto. Perché secondo lei non può andare? Perché di solito già le famiglie siamo in quattro, quindi magari hai un parente, qualcuno. Cioè non ha senso. In realtà è sei oltre quelli che convivono. Quindi come inviti in sé si possono invitare massimo sei persone. Certo. Guardi, non so. Mi sembra una cosa che non può andare. È un po' limitante anche perché nella vita di tutti i giorni, poi comunque in vari posti ci troviamo con sconosciuti anche molti tutti insieme. Quindi proprio a casa, fra le persone che si conoscono e che bene o male si sa, credo non sia tanto... non crei molti benefici. Affrontiamo adesso un altro aspetto del nuovo DPCM. La chiusura a mezzanotte di locali che rappresenta un duro colpo per l'economia del settore. Ci adatteremo meglio questo che la chiusura totale, hanno detto alcuni ristoratori. Tra le novità del DPCM c'è tutta la parte che riguarda la ristorazione e in generale le regole per consumare cibo e bevande, norme che devono essere rispettate per evitare di creare assembramenti e per contenere la curva dei contagi da Covid-19. Come stabilito infatti, i locali, i ristoranti, le pasticcerie e i bar chiuderanno alle 24 e dalle 21 si potrà solo consumare ai tavoli. Non in piedi davanti al locale. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto, ma con divieto di consumazione sul posto nelle adiacenze dopo le ore 21. In ogni caso aumenteranno i controlli con la circolare dell'Abbiminale che ha ribadito l'invito a stanzionare quei bar, pub e ristoranti che offrono le proprie sale per attività danzanti. Ma cosa ne pensano i ristoratori? Diciamo che ci accontenta in parte. In realtà noi del sud siamo abituati a mangiare un po' più tardi, quindi da un lato ci penalizza, da un lato sicuramente ci fa grazie il fatto di non farci chiudere come è successo già nel lockdown. Quindi ci stiamo organizzando, dobbiamo un po' rivisitare un po' quello che sono le nostre abitudini di ristoratori, perché fare accomodare le persone fino a un certo orario o il fatto comunque di doverle mandare a casa una volta dentro a mezzanotte sarà un'altra avventura. Nel caso in cui un cliente arriva e il tavolo non si è liberato, dalle 21 in poi però non si può sostare davanti ai ristoranti, come vi dovrete comportare? Beh, lavoreremo di più con le prenotazioni, sicuramente. Noi abbiamo tanti posti a sedere, io mi auguro di poter arrivare a non sapere dove mettere le persone, ma in realtà diciamo con questa paura che il consumatore finale ha in questo momento credo che non si arriverà a un momento di confusione. E sulle nuove restrizioni, in particolare riferimento alla Movida, sentiamo i consigli del pedagogista e responsabile dell'ambulatorio antibullismi dell'ASP di Ragusa, Giuseppe Raffa, secondo il quale i giovani potrebbero imboccare delle strade alternative a causa della chiusura dei locali alle 24 e lo stop di alcolici alle 22. Si comportano così praticamente dalla chiusura del lockdown. Le motivazioni sono sostanzialmente due. La prima è di ordine educativo e pedagogico, cioè le famiglie hanno dismesso il loro ruolo di primi agenti educativi dei ragazzi, non inculcando in questi ultimi principi di responsabilità e di giustizia, con i risultati che purtroppo sono sotto gli occhi di tutti. Ma non basta. Il protrassi della chiusura delle scuole, roba mai avvenuta prima, ha provocato nei ragazzi una totale assenza di regole, di orari, di norme e quant'altro. Tutto questo ha determinato questa situazione esplosiva che si trova adesso tra i ragazzi. Si cerca di correre ai ripari con metodi di ordine esclusivamente repressivo. Certo, questi metodi possono anche servire e devono essere utilizzati, ma non bastano. Bisogna correre ai ripari sollecitando le famiglie a recuperare il ruolo di primi agenti educativi dei ragazzi che devono essere educati al rispetto, devono essere educati al controllo e alla messa in campo delle regole. Perché sono sicuro che di fronte a queste regole i ragazzi senza le famiglie e senza un nuovo patto con le scuole, senza la discesa in campo delle scuole, una nuova discesa in campo delle scuole, torneranno a fare quello che hanno fatto prima anche se in modi diversi. Che cosa? Magari affitteranno delle case private dove si riuniranno per ballare, e naturalmente non si potrà, ma lo faranno lo stesso, per bere non si potrà, ma lo faranno lo stesso, e ovviamente provocheranno altri contagi. Oppure si riuniranno in piazze e via laddove non si potrà, ma loro lo faranno lo stesso. Insomma, bisogna correre ai ripari. Serve un nuovo patto educativo tra scuola e famiglia? Serve soprattutto che quest'ultima torni a fare la prima agenzia educativa dei ragazzi. Senza questo nuovo patto, senza la discesa in campo delle famiglie, sicuramente non si potrà fare nulla. Le regole serviranno, ma fino a un certo punto, parlo ovviamente delle regole repressive. E cambiamo argomento. Assistenza per i disabili gravi. Botta e risposta tra il Movimento 5 Stelle e l'assessore regionale delle politiche sociali. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Ignazio Corrao, ha depositato nei giorni scorsi una interrogazione alla Commissione europea con cui denuncia la mancanza di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili nelle scuole siciliane. Una questione, in realtà, che va avanti ormai da diverse settimane, ancora prima che la scuola cominciasse. Perché ci sono disabili gravi che hanno bisogno di assistenza igienico-personale che in realtà non riescono ad andare a scuola, proprio perché manca il personale specializzato. Secondo la legge, infatti, questo servizio passa alle stesse scuole e dunque ad occuparsene dovrebbero essere gli bidelli, con non però le lamentele da parte dei lavoratori che hanno di fatto perso la possibilità di poter lavorare e ai genitori un'assistenza certa e garantita. Abbiamo girato tale appello all'assessore delle politiche sociali della regione siciliana Antonio Scavone che così ha risposto. L'assistenza di fatto è partita, tra l'altro io chiedo a tutti di segnalare tutti i servizi che ci sono, di segnalare direttamente in regione perché l'assistenza ai disabili nella scuola spetta alla scuola, non solo per ammissione della scuola, per volontà della scuola che fa una circolare in aprile, il CGA, il Consiglio di Giustizia Amministrativa nel riparto delle competenze sottolinea questo aspetto, purtuttavia la regione è molto preoccupata e noi avendo avuto un sistema fino all'anno scorso che funzionava alla perfezione, non abbiamo levato le risorse e abbiamo consentito che i sindaci o le città metropolitane intervenissero laddove la scuola non è in grado di intervenire. Abbiamo una realtà a macchia di leopardo, se arrivano le segnalazioni la regione interverrà, quindi abbiamo adottato un atto deliberativo e una tranquillità da parte degli enti locali che in surroga potranno sostituirsi alla scuola. Fino a ieri abbiamo avuto un incontro tecnico con il ministro al quale abbiamo chiesto eventualmente di fare un accordo di programma cosa vuol dire? Che laddove la scuola non dovesse arrivare poiché della regione di intervenire e siamo pronti a farlo. Speriamo che nelle prossime ore il quadro si possa normalizzare. Parliamo adesso dei problemi degli studenti pendolari a Scicli ma anche del resto della regione siciliana perché restano inascoltati. La regione infatti non risponde alle interrogazioni e le aziende dei bus lavorano nel caos e questa è la denuncia che arriva dalla deputata regionale Stefania Campo. Studenti pendolari costretti a viaggiare ammassati fra loro se non addirittura in piedi a causa della carenza di mezzi aggiuntivi il tutto andando contro quelle che sono le regole anti-covid. La deputata regionale del Movimento 5 Stelle Stefania Campo raccoglie il grido di allarme di genitori e studenti pendolari che tutti i giorni da Scicli raggiungono Modica e Ragusa per andare a scuola. Ben 15 giorni fa abbiamo denunciato la costrizione di assembramento sugli autobus a cui sono sottoposti i nostri giovani studenti pendolari in mezzo a Sicilia scrive la Campo depositando a Lars un'interrogazione urgentissima e sottoponendo al presidente Musumeici e all'assessorato competente ciò che si sta verificando dall'inizio dell'anno scolastico nel comune di Scicli. Ad oggi non è arrivata alcuna presa di posizione ufficiale della regione di Musumeici. La Campo aggiunge insieme alla consigliera comunale di Scicli Concetta Morana avevamo denunciato uno stato di cose inaccettabile che torna su una questione che in un momento del genere assume un'importanza capitale. Anzi prosegue la parlamentare siciliana. Finora in Sicilia non è valsa la regola del governo nazionale che fissa all'80% la possibilità di riempimento dei bus stessi. Musumeici infatti ha permesso che i bus vadano in giro completamente pieni e quindi senza prevedere alcun distanziamento fra i viaggiatori. Abbiamo anche segnalato come non tutte le aziende affidatarie del servizio di trasporto pubblico non facciano la sanificazione e la disinfettazione dei mezzi giornalmente come da protocolli di sicurezza e che gli autisti che con responsabilità e coscienza prestano la propria opera per garantire la mobilità non siano stati sottoposti ai dovuti tamponi. Se Musumeici e i suoi assessori non sono capaci di garantire la sicurezza dei nostri giovani studenti nemmeno tramite un'azienda pubblica regionale come l'Ast abbiano il coraggio di ammetterlo pubblicamente anche rispondendo adeguatamente alle interrogazioni. Continuare così è veramente inaccettabile, conclude la Campo. La cronaca accusati in 13 di aver affrodato il fisco miscelando carburanti e prodotti energetici vari a Gela, Auguste e Mister Bianco. La Guardia di Finanza in un'operazione congiunta con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha eseguito stamani quattro ordinanze di custodia cautolare in carcere nei confronti di responsabili di tre aziende siciliane che sono state sottoposte a sequestro ai dettagli. 13 persone sono accusate di aver affrodato il fisco mescolando carburante e prodotti energetici una vera e propria organizzazione criminale composta da imprenditori, dipendenti delle società ofidati, autotrasportatori che con base operativa in Sicilia e collegamenti esteri in Slovenia e Croazia hanno messo in atto un collaudato meccanismo di frode che, sottolineano gli inquirenti ha permesso rapidi guadagni in tempi relativamente brevi, a danno della parte commerciale sana del settore e nonché degli automobilisti. I dettagli sono stati illustrati questa mattina in conferenza stampa presso la Procura di Gela. Quattro le misure cautelari emessi dal GIP del Tribunale di Gela ed eseguite questa mattina dalla Guardia di Finanza. Tre persone sono finite agli arresti domiciliari, per una quarta è scattato l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e l'obbligo di dimora. Sequestro preventivo anche per tre società con sede legale a Mister Bianco, Augusta e Gela per un valore complessivo di oltre 13 milioni di euro. L'organizzazione riusciva a ottenere un prodotto edonio per l'autotrazione senza che su di esso fossero pagati i diritti doganali, le accise e l'IVA e riusciva a venderlo totalmente in nero e al di fuori dei circuiti ufficiali. Una strategia fraudolenta che ha consentito di evadere i tributi gravanti sugli oli minerali per un totale di oltre 437 mila euro. Le indagini hanno preso il via nell'estate del 2018 quando furono sequestrate 5 autocisterne utilizzate per trasportare il prodotto miscelato presso distributori confiacenti. Un intero deposito di carburanti nella zona di Contrada Manfria a Gela, nonché 111 mila litri di prodotto petrolifero adulterato. Contestualmente in quell'occasione vennero arrestate 4 persone per 3 dei quali oggi sono scattate le misure cautelari. Adesso una pausa pubblicitaria, tra poco. E ancora la cronaca, un articolato sistema di frode fiscale con profilo internazionale con tre società coinvolte è stato scoperto dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania che hanno individuato fatture per operazioni inesistenti per 750 mila euro denunciate tre persone per reati tributari e sequestrati oltre 200 mila euro. Un giro di fatture per operazioni inesistenti pari a 750 mila euro è stato scoperto dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania che ha denunciato tre persone per reati tributari ed eseguito un sequestro preventivo disposto dal GIP di Catania di oltre 200 mila euro ritenuto il provento dell'imposta evasa. Le indagini hanno riguardato due società che si occupano della fornitura di dispositivi chirurgici e apparecchiature elettromedicali e ad ospedali pubblici e privati ed hanno preso il via da una verifica condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania. In particolare gli accertamenti si sono concentrati su tre distinti contratti di assicurazione per copertura del rischio di insolvenza dei crediti che le due società avevano sottoscritto con una compagnia di assicurazione di diritto tedesco avvalendosi per il perfezionamento dei contratti di un broker. Secondo gli investigatori il broker agiva dietro lo schermo di una società fantasma che operava come cartiera emettendo false fatture per contratti di assicurazione in realtà mai esistiti. A confermare l'inesistenza di rapporti commerciali tra le due società, quella tedesca e quella catanese e pertanto la falsità dei contratti è stata la polizia tedesca. I falsi contratti di assicurazione servivano alle due società catanesi per indicare costi fittizi nelle dichiarazioni dei redditi in modo da diminuire in modo illecito i proventi realizzati dall'attività di impresa e realizzare così un indebito risparmio di imposta. Dopo questa ricostruzione, operata dal nucleo PEF di Catania, sono stati denunciati i legali rappresentanti delle due società catanesi per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti e anche il broker per aver emesso fatture per operazioni inesistenti finalizzate a consentire alle due società di evadere le imposte. E parliamo adesso della messa in sicurezza del porto di Pozzallo perché la regione siciliana ha infatti erogato al comune di Pozzallo un finanziamento di oltre un milione di euro per lo studio di progettazione. A intervenire ai nostri microfoni l'assessore regionale Falcone. Lunedì è previsto un suo sopralluogo. Procede l'iter di messa in sicurezza del porto di Pozzallo. Il progetto prevede la realizzazione di un molo di sottoflutto lungo quasi un chilometro per impedire l'insabbiamento con la creazione di una banchina che permetterebbe lo sviluppo commerciale e turistico del porto, con la possibilità dunque dell'attracco delle navi da crociera. Questo quanto spiegato dal sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna. Sono necessari, ha dichiarato il primo cittadino, studi specialistici da parte di società specializzate e di enti universitari per il completamento del progetto. In virtù di ciò il comune ha ricevuto un finanziamento da parte della regione di più di un milione di euro. Lo afferma l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone. L'esponente del governo Musumeci sarà in visita lunedì nell'area portuale. A Pozzallo col sindaco a cui abbiamo finanziato lo studio di progettazione per un milione e cento mila euro col fondo di rotazione. Il sindaco mi ha garantito che entro i prossimi 4-6 mesi presenterà il progetto del nuovo porto di Pozzallo e il governo Musumeci è pronto a finanziarlo. 5 milioni di euro destinati a Ragusa dall'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana per la riqualificazione delle strade di accesso a masserie, ville, lurari, torri e altri contesti di interesse architettonico tipico della campagna ragusana che si trovano all'interno del proprio territorio comunale. Si tratta di un importante finanziamento, ha detto l'assessore beni culturali Alberto Samonà che migliorerà la qualità dei collegamenti ai siti monumentali archeologici di Ragusa, ha detto. Tra i luoghi che verranno interessati dai lavori le strade di accesso ai siti riparo sotto roccia incontra da Fontana Nuova, Grotta delle Tre Bacche, Ipogeo, Cisternazzi, Latomie Cava Gonfalone e Santa Maria delle Grazie. E adesso cambiamo argomento perché il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna si è rivolto al Consiglio Nazionale delle Ricerche e all'ARPA Sicilia per chiedere l'avvio di una ricerca mirata a identificare i livelli di concentrazione esistenti di emissioni odorifere emanate dall'impianto Avimec della zona industriale modica Pozzallo. Una missiva è inviata al Consiglio Nazionale delle Ricerche e all'ARPA Sicilia per richiedere l'avvio di una ricerca mirata ad identificare anche attraverso l'utilizzo del web app Nose i livelli di concentrazione esistenti di emissioni odorifere emanate dall'impianto Avimec nella zona industriale modica Pozzallo. È stata inviata dal sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna. Dopo un'istanza indirizzata alla sovrintendenza di Ragusa e all'assessorato regionale beni culturali e ambientali per richiedere che Contrada Zimmardo Bellamagna sia riconosciuta come sito di notevole interesse pubblico, il primo cittadino ritorna sulla questione dell'impatto ambientale, anche in riferimento alla realizzazione dei due impianti di biogas rispettivamente in Contrada Zimmardo Bellamagna e nell'impianto Avimec della zona industriale. Nella missiva si segnala l'emergenza ambientale che interessa il comune di Pozzallo, scrive Ammatuna, causata dalle emissioni provenienti dall'impianto di macellazione e sezionamento polli dell'Avimec. Emergenza che può aggravarsi, sottolinea proprio a causa dell'approvazione del progetto di ristrutturazione e ampliamento dell'impianto e di realizzazione di un impianto di biogas nello stesso sito. In conseguenza a questo assedio di impianti al territorio di Pozzallo, scrive Ammatuna, ho chiesto l'effettuazione di prelievi dell'aria e rilevazioni a mezzo del sistema nose già sperimentato in altri luoghi della Sicilia. Sarà uno strumento importante, conclude il primo cittadino, che grazie alla collaborazione dei cittadini e delle imprese, potrà contribuire a combattere le emissioni odorifere che affliggono la città. L'Avimec, tramite il legale dell'azienda, interviene sulla missiva inviata al Sinaco di Pozzallo, Ammatuna. L'Avimec esercita da sempre la propria attività nel rispetto delle vigenti normative amministrative e tecniche ambientali. Allo Stato nessuna autorità amministrativa preposta ha comunicato violazioni connesse a emissioni odorifere e pertanto non si comprende sulla base di quali evidenze tecniche e amministrative il Comune di Pozzallo riferisca nel comunicato datato oggi di un'emergenza ambientale, riservandosi la società occorrendo ogni tutela giudiziaria in ordine a tali specifiche affermazioni. Viceversa l'azienda, al di fuori di ogni inutile vispolemica, conferma piena disponibilità a collaborare con le istituzioni allo scopo di contribuire alla crescita del territorio e dell'occupazione, così tuccio di stallo legale dell'azienda Avimec. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buona serata.